direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto prima di procedere con l'estrazione vi ricordo l'incredibile iniziativa pasqua 100% convalidando una giocata super enalotto con superstar valida per il concorso del 31 marzo troverete sulla ricevuta di gioco i codici alfanumerici per partecipare alla ricca estrazione di ben 100 premi garantiti da 100 mila euro ciascuno ed ora andiamo a scoprire quale cifra ha raggiunto il jackpot oggi giovedì primo marzo 106 milioni 576 mila 452 euro il più alto d'europa le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora il via l'estrazione del concorso numero 26 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire sei numeri vincenti più il numero jolly tenete strette le vostre ricevute e in arrivo il primo numero il primo numero estratto è il numero 57 siamo al secondo numero con super enalotto si inizia già a vincere il secondo numero estratto è il numero 9 il terzo numero sta arrivando il terzo numero estratto è il numero 23 pronti per il quarto numero il quarto numero estratto è il numero 82 adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite il quinto numero estratto è il numero 72 è il momento di incrociare le dita stiamo per completare la sestina vincente il sesto numero estratto è il numero 77 dopo i sei numeri che assegnano il jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme a cinque numeri della sestina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 il numero jolly di questa sera è il numero 64 controlliamo insieme la sestina vincente in ordine d'estrazione del numero jolly 57 9 23 82 72 77 numero jolly 64 ed ora passiamo al numero superstar superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le spere da 1 a 90 procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre superstar moltiplica le vincite superena l'otto fino a 100 volte e premia anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna pronti? il numero superstar di questa sera è il numero 32 ricontrolliamo tutti i numeri estratti del concorso numero 26 in ordine crescente 9 23 57 72 77 82 numero jolly 64 superstar 32 l'estrazione di oggi giovedì primo marzo termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 106 milioni 500 mila euro il più alto d'europa è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 26 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? questa estrazione del superenalotto assegna 414.108 vincite vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 106 milioni 500 mila euro il più alto d'europa sarà stato centrato il 6? questa sera il 6 di superenalotto non è stato realizzato e il jackpot cresce ancora per arrivare a 107 milioni 900 mila euro vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6, nessun 5 più 1 i 5 sono 2 e vincono 94.386 euro ciascuno i 4 sono 605 e vincono 320 euro ciascuno i 3 sono 22.520 e vincono 25 euro ciascuno i 2 sono 361.663 e vincono 5 euro ciascuno ed in questo concorso sono state assegnate ben 13.669 vincite immediate del valore di 25 euro ciascuna scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella i 4 stella sono 3 e vincono 32.001 euro ciascuno i 3 stella sono 95 e vincono 2.576 euro ciascuno 100 euro vanno ai 1.332 stella 10 euro vanno ai 9.996 1 stella 5 euro vanno ai 18.694 0 stella vi ringrazio per essere stati con noi Super Enalotto vi dà appuntamento a sabato 3 marzo giocheremo per un jackpot di 107.900.000 euro arrivederci